E' stata pubblicata in gazzetta ufficiale e sul sito del Comune di Napoli la gara per la progettazione del prolungamento di linea 6 con scadenza 29 maggio. E' la progettazione dei tratti che da Campegna arriveranno a Posillipo, Petrarca e a Bagnoli. E' una gara di progettazione molto rilevante perché l'importo per la progettazione è 21,3 milioni di euro per progettare un'opera che probabilmente varrà qualcosa come 400 milioni di euro. Dunque la linea 6 dopo il deposito di Campegna di cui già abbiamo il progetto ma abbiamo anche chi dovrà realizzarlo che è il concessionario potrà risalire fino a Piazza San Luigi. Sembra una cosa sbalorditiva ma in realtà si tratta solo di forare un banco tufaceo perché poi la quota di Campegna è fuori grotto e la quota di Piazza San Luigi sono quasi uguali. E si può uscire in una delle cavità posteriori di Piazza San Luigi quindi senza fare alcun lavoro a Posillipo. I lavori vengono fatti tutti alle spalle e con un ascensore è facilissimo collegarsi anche a Via Petrarca. Sembra fantascienza ma in realtà è un'opera molto più semplice delle gallerie che si sono dovute scavare per la metropolitana a Napoli che sono sotto falda quindi diciamo in presenza di acqua invece lì è solo tufo. E poi c'è dall'altro lato il prolungamento invece verso Bagnoli lì si studieranno varie soluzioni alternative quindi poi si sceglierà per la progettazione definitiva che è compresa in questa gara quale soluzione. Vogliamo arrivare i più prossimi all'area di Bagnoli con varie opzioni a seguire a secondo poi degli usi che mano a mano si decideranno per tutta l'area di Bagnoli. Lì speriamo di poter realizzare anche un grande parcheggio di intescambio per chi viene in automobile in quell'area attraverso la tangenziale o le altre strade perché noi puntiamo ad avere un bacino di utenza di linea 6 molto grande quindi la linea 6 che è partita in maniera molto semplificata insomma quasi inutile in realtà collegherà aree enormi fino a Piazza Municipio dove poi c'è intescambio con linea 1 quindi la linea 6 diventerà una linea veramente importante. Siamo certi che parteciperà il meglio dell'ingegneria italiana.